Ciao, ci troviamo in cima all'Alpe di Poti, una montagna che sta proprio sopra la città di Arezzo, una delle prime salite che ho scalato quando mi sono trasferito qui. In realtà si tratta di due salite. La prima, lunga 4 km, che arriva fino al Vallico dello Scopetone, è molto regolare, è abbastanza tosta ma sale costantemente con una pendenza media del 6,5%. Arrivato al Vallico dello Scopetone invece ho inforcato la strada che porta fino a qui, all'Alpe di Poti, che invece è una salita molto più irregolare, da subito aspera con delle pendenze che sfiorano al 14%. Peraltro dall'altro versante questa stessa montagna è stata toccata nel 2016 dall'ottava tappa del Giro d'Italia, quando salirono dal versante appunto sterrato. Per effettuare questa salita ho indossato una maglia dry yarn che si è comportata perfettamente, mi ha mantenuto sempre asciutto e ben areato e soprattutto ha fatto un grande lavoro quando la salita si infilava più sotto tra i boschi di castagni e l'aria era più fresca perché c'era ombra e c'era molto umido. Perciò è consigliatissima. Io vi do appuntamento alla prossima. Ciao!